Con questa stagione Fortnite ha fatto un grande errore Ho fatto un grande errore E in questo video vi farò vedere il motivo di questo titolo, ragazzi Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa C'è un glitch che vi permette di diventare immortali Quindi, raga, se questo non è un errore, non so quale altro sia L'altro errore è la tua faccia da costacca No, l'altro errore sono tutte le armi devastanti che hanno messo Perché la season è strana, ragazzi, ve lo dico L'abbiamo già visto nei primi video E abbiamo notato che ci sono armi mitiche e medaglioni mitici davvero devastanti E come se non bastasse, tutti i veicoli hanno la possibilità di ottenere lancia granate e torrette con munizioni infinite Ditemi voi se è una season normale Vogliamo parlare anche di quest'arma che tira i pugni? Cioè, questa qua proprio letteralmente viene qua Te la faccio vedere quanto è devastante Vieni, perché quella è l'altro argomento del video L'arma dei pugni Perché, a quanto pare, anche quest'arma, ragazzi, è completamente rotta Cioè, nel senso, ci sono già glitch che puoi fare Non è rotta, funziona, cioè, perché funziona, però è troppo forte Funziona pure troppo bene, credo E l'obiettivo di questo video, Conti, è ad andare a vedere se effettivamente Fortnite ha fatto questo errore Quindi che cosa faremo? Cercheremo di prendere tutte queste armi mitiche Tutti i medaglioni Tutte queste armi bannate, giganti, strane, distruttive E vedere se effettivamente, utilizzandole tutte insieme e combinandole, saremo immortali oppure no Camioncino delle p***e Non è il camioncino del p***e È il camioncino del boss E non ti avvicinare a qualcosa, perché anche questi boss sono completamente illegali Ah, ok Dato che ti sparano le granate infinite Ah, come infinite? No, no, no Ma no, perché non l'avevo mai visto, ho capito Eh, adesso, adesso, adesso dobbiamo farlo per forza, dobbiamo farli fuori Ma sì, dai, facciamolo, siamo troppo forti, bro Ok Allora, quelli in macchina sono i boss È il nostro obiettivo, in realtà Quelli sul furgone sono gli scagnozzi, che sparano colpi infiniti Ok, ok, ok Uno morto? Bravissimo Allora, dobbiamo prendere tutte le armi mitiche E questa è ovviamente una di quelle Quindi, ragazzi, impegniamoli, per favore Perché qua la situazione è critica Dove sono andati? Sono scappati Ok, continuiamo l'inseguimento Dove è andato? Let's go, let's go, let's go Lo so, bro, bro Sopra, spara, spara Eh, ho finito i mazzi Oh, sai che mi sa che non è il boss? Ma si è rotto forte Ma dovrebbe essere il boss questo Non è il boss No, non è Non è capito, non è capito Sono sopra la cosa Sto sparando le granate Aia Ma perché c'è gente? Oh, conti Hai capito? Spara Destrutti tutti Ah, sì, c'è gente? C'è gente? C'è gente dove? Qua sotto C'è un tizio che ci spara Toi, deficiente No, ragazzi Ma si può guidare? Ah, sì No Aspetta, adesso andiamo a comandare la lobby Aspetta, aspetta, aspetta C'è gente, c'è gente qua sopra Ok, dobbiamo devastarli In qualche modo che dobbiamo devastare le lobby oggi Conti con questi glitchi strani Ok, ok Ok, intanto, intanto, fortissimo Ok, ok Catronota, sono morto Ok, ti aiuto? Eh, no, no, no Sono proprio morto Sono proprio morto Te lo assicuro Aiuto Ucciso uno Bravo, bravo, bravo Ok, c'è uno da me, c'è uno da me Ok, 44 Preso Quasi ucciso, Conti Ok Devo ricaricare Ok, bianco morto Let's go Ok Per adesso abbiamo pochissime armi di quelle destruttive Siamo già distruttivi Solo con il camion Ma che musica di merda è questa? Ma perché non si ferma poi? No, Fortnite fa schifo, ragazzi Bisogna migliorarlo No, questa season è... Io posso dire So io come migliorarlo, Lollo So io come migliorarlo Disegniamo un bel cazzo sulla mappa No, non insegnare i cazzi sulla mappa Basta Vieni qua Vieni qua Sali sul furgone devastante Andiamo in giro A distruggere tutto Perché guarda Questo furgone è infermabile Ok? No, non ci credo Spacca tutto così Spacca tutto, qualsiasi cosa Ma è illegale È illegale E come se non bastasse ragazzi Hanno aggiunto una sorta di stadio gigante Dove A parte che sto prendendo danno a caso Ok? Ok In questo stadio ci sono completamente Dei boss strani Che devi uccidere Per prendere una macchina Io lo so che è strano Questa season Ragazzi Non ci posso fare nulla Ancora non ho capito bene Come funziona in realtà Ma io una cosa Non ho capito l'olio di questa mappa Soprattutto di Questa zona in cui ci troviamo Ok? Ma perché ci stanno tipo Ste robe che girano? Cioè nel senso Si può fare tipo il combattimento Non ho capito Vorrei capire anche io Signor Conti Purtroppo Cioè se gli vado addosso A sta roba Che succede? Niente Non capisco Non ha senso Non capisco Ok io intanto mi faccio un'altra kill Perfetto Dobbiamo correre a prendere le armi mitiche però Che stanno scappando Sono qua È il momento di provare il tutto per tutto Ma questi hanno le armi per cui questa season è distrutta Mannaggia la pupazza No 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 Sto arrivando di aiutarti Non ti preoccupare No è finita fidati Come è finita? Eh hanno la macchina immortale Hanno la macchina fottutamente immortale Che spara gli cazzi No non sparano i cazzi Sparano i colpi semmai Ok 18 a 1 Sì vabbè Lollo Ma questi sono le armi troppo forti Eh che sono quelle che dovevamo prendere noi per il video Quanti Ah amici Purtroppo l'hanno preso loro Arrivano Eccolo Aspetta L'ammazzo io questo eh L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Bravo Ci sta l'altro però Quei pugni Copriti copriti No eh vabbè ma che macchina di merda ha questo No 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 conti Dai è rotta è rottissima sta macchina Ok aspetta Dimmi che fare guidami Che ti guido Come fa a vedermi Come fa Ok Dai 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 Che cosa fa fare No Dai dai uccidilo uccidilo Sì Let's go Abbiamo tutte le armi mitiche E tutti i medaglioni Fermo 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 Ma quando mai tu fai ste cose Non lo so Quanti non lo so Non lo so Non lo so Aspetta 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 Allora Capiamo capiamo Prendo il medikit Ragazzi ma guardate qua È pieno di armi mitiche Bellissimo Adesso il problema sarà solo uno Che ci busceranno tutti Tutti No ti busceranno tutti Perché io sono morto Ok Abbiamo delle armi devastanti Hai delle armi Ti ripeto Ti ricordo proprio che io sono morto Quindi non Aspetta che prendo pure i guanti mitici Che non mi fa prendere E prendo la macchina immortale Ragazzi sono immortale completamente Allora Dobbiamo cercare un camioncino per restarti Questa zona della mappa Non la conosco per nulla Serve un camioncino qua Bello 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 signori Guardate qua Guardate qua la macchina Ma è rotta Ma che cos'ha questa season Beh Posso dire che tu non è che stai guida proprio bene Tu devi essere proprio sincero Ok Ti resto Ok In questo momento quindi ragazzi Io ho due armi mitiche Ho la macchina Questa qui devastante Che spara E soprattutto nell'inventario Ho due medaglioni Ho sia quello che ha Munizioni infinite Sia quello che mi dà Nitro infinito Quindi ragazzi Siamo praticamente Non dico immortali Ma quasi Ma tu lo sai che con questa macchina Cioè abbiamo letteralmente Conquistato tutto Fortnite Con questa macchina Tu guidi E io sparo Ok Io posso sparare da sopra Non ci credo Non ci credo Ok giochiamocela bene Perché mancano 17 persone E voglio vincere Oh oh Ci sparano Ci spara Scappiamo Non lo so Da lì giù ci sparano Ma io andrei via Tu quanti guida Tira dritto Io vado Vado via Vado via Che cos'è questa roba Che sta succedendo Non mi preoccupare No non lì Tranquillo È tutto sotto controllo bro Tutto sotto controllo Ma stavo andando dritti fuori safe Tranquillo Sono un guidatore esperto io No lo vedo Lo vedo Io pure così guidi in autostrada con mio padre Quale Comunque siamo arrivati ad un punto della partita In cui dovete farmi sapere all'interno nei commenti Se questa season di Fortnite vi piace oppure no Perché a me sinceramente non mi dispiace Cioè oddio Non è bellissima Ma non è nemmeno bruttissima Hanno fatto un casino eh Però ci stanno delle armi troppo forti Quindi Ci sono delle armi Arma forte sei fottuto Esatto Queste armi che abbiamo noi in questo momento Sono troppo forti Cioè se le incontrate contro siete morti Se le avete avete vinto per forza E questo è un po' il problema di questa season Spara 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 Oddio a chi sparo Non c'è nessuno Ma questi qua Ma chi? Oh Guarda Ma dai No no Conti tu non hai capito La mia cosa qui fa 30 Oddio l'ho ucciso uno così Aspetta fammi lutare Hai ucciso due Conti Sì 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 Lasciamo stare Ce n'è un altro ancora Qui sotto Che sta arrivando E l'ho ucciso con il pompa mitico Signori Ma che cosa sto vedendo in questo video Ok ora devi guidare tu Corri corri Ma che corro Non sto in macchina Conti No io voglio guidare Cioè voglio sparare Vai 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 Alterniamoci Vai sparami subito Fammi Fammi entrare dentro Bello così Bello così Siamo rimasti Ufficialmente in 11 Abbiamo la macchina più forte del gioco Perché questa se non sbaglio è la macchina del boss Non vorrei dire stronzate Ma mi sa che è la macchina che non può prendere danno Ok? Come non può prendere danno? Questa macchina non so se può prendere danno Ma la benzina non finisce qua E la benzina non finisce Abbiamo tutto illimitato Allora dobbiamo solo impegnarci Niente può andare storto Ho delle armi mediche Ma ti pare che non la vinciamo È impossibile L'abbiamo già vinta questa Oh là c'è gente eh Laggiù Proviamo Ok si sta qua dentro la casa Ok proviamo proviamo Tanto abbiamo la macchina più forte del gioco Non può andare nulla storto Puoi mettere questa parte se moriamo? Sì Preparate a sparare a sinistra Ok 30 È morto è morto Oh morto uno È illegale è illegale è illegale È illegale Aspetta che lo lancio via Guarda qua Guarda qua lo investo Ucciso Altri nemici a pie Conti hanno la macchina anche loro Dobbiamo stare attenti Però la loro è quella che prende danno eh Davvero? E l'andiamo Aspetta aspetta Non troppo Non troppo rimani rimani Questo sparagli Questo sparagli Ucciso Bravissimo 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 Investiamolo Portiamolo via Sta sopra di noi Vai 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 No ragazzi io ve l'avevo detto Che fortale ti aveva fatto un grande errore Io ve l'avevo detto Farà questo qua per terra Ma uccidilo Oh conti 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 Scappo 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 Comunque la nostra macchina non è immortale Prende danno anche la nostra macchina purtroppo Allora fermiamoci in un punto No vai in safe vai in safe Ok Dobbiamo fermarci in un punto strategico In cui non possono romperci le palle Andiamo tipo qua al benzinaio di prima Qua 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 Ok ok Non sei una papera Perché fai qua 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 Era per dire il luogo capito Qua qua Là Lì Siamo rimasti in cinque Siamo rimasti in cinque Questa stagione potrebbe Avere due riscontri Ok Potrebbe essere fortissima Bellissima Se vinciamo E questa season potrebbe fare schifo Schifissimo Se perdiamo Ok io ve lo dico Ok io ho messo Ho messo un attimo la macchina In sicurezza Bravissimo Rimaniamo un attimo camperati Oddio Si è buggata Sono uscito dai muri Ho capito Vabbè No 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 È proprio entrata fortissima Di cattivo Allora Creiamogli qua Tipo ok Ma non build Non mi fa buildare Conti No mi sono buggato Ok Oddio ma che succede Senti facciamo una roba Non No infatti Non facciamo niente Facciamoci i cazzi nostri In un attimo Anche perché qua Si stanno sparando tutti Si stanno devastando Io ho dei poteri Che andando contro le mura Le distruggo Non so Oddio 2v2 Sono quelli nella macchina Spara Prendi la macchina Spara Conti Vieni vieni nella macchina Ok devo sparare io Spara Stanno andando fuori safe Girati girati Piano Adesso si bucano da qui eh Li vedi Vai Distrutto Oddio Ma che cos'è Bravo Ma che finale di partire Non ho mai visto questo No Conti frena 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 Ok siamo sopra Distrutto Ok aspetta 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 Conti Aspetta Va vai tranquillo Oh sopra stanno Ok distrutto la macchina Bravo 80 81 devastato eh Ok lo sto distruggendo eh Ucciso uno Bravo L'altro umore da safe Bravo ucciso No mi ha investito Vieni sulla macchina Vieni sulla macchina Gira a destra Ok Bravo Oddio Oddio ho paura Ho paura mamma Non capisco dov'è È qua È qua dietro Sta senza macchina No no Non scendere Non scendere Fatti conti prova E investilo Ok lo scendo Signori Questa stagione è devastante Confermo che Fortranit ha fatto Un grande errore Raggiungendo questa roba genial L Heat Non 墓